Siamo qui con Dioli Micole del San Marco Cologno, una sconfitta al quinto set, non la prima, però è stata una partita davvero equilibrata, primo set ha i vantaggi, poi siete riuscite a recuperarla e alla fine nel quinto siete un po' calate fisicamente probabilmente. Cosa ne pensi della partita? Un po' la stanchezza data dal quinto set, ce la siamo giocata un po' fino alla fine, noi siamo un po' masochiste, ci piace tirarla così fino all'ultimo, quando si arriva al quinto la mano la spacca e questo giro l'abbiamo persa. Sicuramente le qualità offensive e difensive non sono mancate per la maggior parte della partita, c'è stato un po' un calo fisico nel quinto set, forse è un aspetto su cui dovrete lavorare ma sicuramente siamo a inizio del nuovo anno, può capitare. Sì, un po' di stanchezza appunto e poi abbiamo riniziato dopo il Natale subito con due partite in una settimana pronti via e vabbè tutta fa così. La situazione di classifica non è delle migliori ma avendovi visto già un paio di volte so che le qualità ci sono per crescere e per uscire da queste zone brutte. pensi che potreste farcela? Sì, dobbiamo riassettarci con i ruoli perché c'è sempre un po' di cambiamenti, io facevo il palleggio ma in realtà inizio anno ero libero, il libero era una banda quindi dobbiamo ancora aggiustare i ruoli e capire qual è la squadra definitiva, un po' il sestetto base. In bocca al lupo per la stagione? Crepi! Grazie!